La domenica ero a casa, erano le 11, 11 e mezza, così ero con mia moglie e mi telefonò a Ferini dicendo mi guarda è successo la disgrazia, praticamente Veroni è morto, un incidente stradali erano insieme a Poletti, Poletti praticamente c'è fatto niente. Un anno dopo la morte di Meroni durante una gara di campionato c'è stato un minuto di raccoglimento per la morte di Meroni e non è come adesso che lo si fa prima di andare in campo, lo si è fatto al minuto, forse al minuto dove Meroni aveva segnato il gol. Ed è chiaro che mi trovavo vicino al guardalinei perché la palla era uscita e l'abitro ha fischiato proprio il minuto di raccoglimento ed è chiaro che basta, si trattava di mettersi sull'attenti e di pensare a chi non c'era più. In quel momento forse mi ha pesato tantissimo la maglia di Meroni. Per noi è stato tragico sicuramente sentirne la notizia che Gigi quella domenica ne morì ne per strada, dopo che eravamo all'hotel ambasciatori ne andavamo sempre in ritiro lì e poi dopo ne finito il ritiro andavamo a casa e abbiamo sentito questa notizia e ci siamo un po' sconvolti. Sicuramente poi dopo quella settimana ci siamo sicuramente gasati proprio per dimostrare che per Gigi ne di fare una grande partita. Ci davano tutti per perdenti, i giornali eccetera, invece noi in un bel momento mi ricordo che sono andato negli spogliatoi prima della partita e già tutta la settimana ero dietro loro e in un bel momento le dicevo qua bisogna che mettete un pizzico in più voi che è quello che era il Meroni e dobbiamo recuperare quel pizzico che abbiamo perso per una disgrazia. Fu una grossa perdita sia morale che sportiva in tutti i sensi e diciamo poi grosso ricordo perché fu il derby in cui vincemo 4-0 contro i gol di Combini, uno di Carelli e dopo una settimana passata veramente puoi immaginare sconforto, i funerali, tutto l'insieme insomma una settimana veramente molto molto triste ecco. Ho fatto un gol, un gol che mi ha liberato ecco, in definitiva dopo aver fatto il gol mi sono realizzato tutto questo aspetto qua ecco, forse perché avevo sulla maglia di Gigi non conosco il motivo, comunque ne è sicuramente stata una gioia ecco. Uno degli idoli in un'annata dove chiaramente la contestazione, essere contro incominciava, era il 68. Era un ragazzo semplice, un ragazzo che aveva una grande voglia di vivere, un ragazzo un po' introverso, generosissimo, un ragazzo che vivi e lasci a vivere. In quel momento i miei idoli erano i Beatles e Meroni e George Best erano il quinto Beatles. Era un grosso giocatore nella sua estroicità generoso, vestiva stranamente però quando era in campo era un grossissimo giocatore che dava l'anima per quella maglia che aveva addosso. Col suo modo di fare, col suo modo di essere, col suo modo selvaggio di stare in campo piano 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 ci prendeva tutti quanti. Come campione è un ragazzo che doveva ancora, secondo me, dare molto, molto. Aveva delle qualità enormi che purtroppo non siamo riusciti a vederli alle tutte. perché era un altruista in campo, un generoso, come ti dicevo, anche fuori campo ma anche in campo e aveva un talento naturale. Era un fuoriclasse. Era molto, molto vicino il suo modo di fare a un giocatore come Messi. Era più vicino a Messi che a Ronaldo. Metteva la sua fantasia alla disposizione della squadra. Questo giocatore era più personaggio, era più, per noi era, diciamo, dalla nostra parte era il nostro idolo ecco. Era un giocatore che faceva differenza, un giocatore che poteva essere come non sono i Platini o non lo sono i Van Bastard adesso sicuramente. Era troppo la sua qualità, la sua grandezza rispetto agli altri. Quando ne parlavano, parlavano tutti con grandissimo rispetto. Non ho mai sentito uno dire una frase che non fosse trionfale nei confronti di Gigi Meloni. Sono tutti molto portati al fatto di non pronunciare il nome di Meloni per rispetto e secondo me per questa capacità che ha avuto lui di diventare l'idolo anche degli spogliatori.